Ciao Che adesso mi voglio allenare per superare me stesso In un mini gioco di Remaraving Rapids 2 Il mio preferito Il mio mini gioco di Remaraving Rapids 2 preferito Rutto libero Voglio provare a superare i miei record Speriamo Sono piuttosto alti Forse anche troppo Comunque Vai Rutto libero Allenamento Oh Che cavolo c'ho la telecamera davanti al Tecane Ok Cominciamo Adesso mi allenerò per un bel po' di tempo Vai Via C'ho le mani completamente congelate Oh Cominciamo Scusate Ho fatto un fritteggio bastino C'ho le mani congelate Riproviamo Settiamo un po' di forte in più eh Per farcela Qua ci sono i miei record Vedete 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 Cosa cosa Una volta ho fatto 19.900 e qualcosa Non me l'ha salvata Vedete 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 l'arca a fare più proviamo perchè posso fare molto di più no no riproviamo mi riuscivo a fare 19.000 secondo vado a sciacquarmi le mani con acqua bollente non 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 않은 s parte questa è la volta posso farlo da 8 ho fatto un bel po' di bull sii ma chi sono ok 19.501 punti riproviamola senta infioribile in me riproviamo ok ho superato il mio secondo record secondo record continuiamo vai ok questo numero lo ho fatto senza volerlo via però quanto pare mi dico 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 ok 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 io direi che è abbastanza per questa volta qui ci sono i miei record dove li faccio ripetere ok il tempo stringe altrimenti non potrei caricare mi dico